Sicuramente l'Irlanda arriverà molto guerrita Roma qua, d'altro canto abbiamo tutti due perso le prime due partite, però onestamente dopo la prova attitudinale che abbiamo fatto in Inghilterra abbiamo messo uno standard su cui non vogliamo tornare indietro, nel senso che in Inghilterra abbiamo fatto errori giocando, abbiamo cercato di sistemare in settimana per mettere tutto a punto in modo da combattere la partita dal mio pari contro una squadra sicuramente più esperta ma che non ha più fami di noi. Quindi mi aspetto una partita molto fisica perché in Inghilterra hanno molto gioco, molto erosivo soprattutto con gli avanti, in ball, mischia e magari su delle palle alte che magari possono essere sporche sui vari contest aerei, però devo dire la verità siamo molto confidenti della settimana che abbiamo fatto, forse è una delle migliori, siamo coscienti delle nostre armi, dei nostri strumenti che abbiamo in possesso per andare a fare una gran partita a sabato.